Sicuramente il terremoto ci ha tolto tanto in termini di abitazioni, di lavoro, di vita sociale, però nello stesso tempo oggi ci offre anche opportunità, delle grosse opportunità per la crescita e le prospettive future. Sicuramente, ecco, questo dei progetti, dei pit, dei progetti integrati per uno sviluppo turistico futuro sono importanti, bisogna coglierle in modo che si possa dare un futuro a questo territorio.